Pochissimi giorni fa DJI ha presentato il nuovo RS3 Mini, ovvero lo stabilizzatore di ultima generazione a tre assi appunto della nota azienda famosa sia per i droni che per gli stabilizzatori elettronici ma anche per le action cam Poco tempo fa vi abbiamo parlato del DJI RS3 Pro, quindi il fratello maggiore di lei invece questo qui è appunto il modello Mini, quindi già dal nome potete capire anche dalle dimensioni dal video che effettivamente è uno stabilizzatore molto più compatto rispetto all'RS3 Pro e quindi è pensato a un pubblico forse meno professionale e per chi viaggia molto Però non mi dilungo ulteriormente, la vediamo più nel dettaglio, subito dopo la sigla! Ciao amici di TecnoAndroid e benvenuti o bentornati in questa nuova video recensione Oggi come detto poco fa parleremo del DJI RS3 Mini Vediamo velocemente cosa c'è all'interno della confezione anche se da vedere non c'è un granché in quanto lui che è il protagonista l'abbiamo già montato all'interno della scatola appunto trovate il piccolo treppiedi da andare ad avvitare sotto allo stabilizzatore i vari manuali di istruzione ed infine i due cavi USB-C-USB-C e USB-A-USB-C che vedremo più avanti a cosa servono DJI RS3 Mini adotta un design all-in-one, compatto e portatile molto simile a quello dei suoi fratelli maggiore DJI RS3 RS3 Pro come vi ho detto poco fa l'RS3 Pro l'abbiamo già recensito per voi qualche mese fa trovate sempre la recensione qui sul nostro canale di TecnoAndroid e lui pesa solo 795 grammi è molto compatto, potete fare anche il paragone con la mia mano che è molto piccola ed è circa il 50% più leggero del DJI RS3 Pro e il 40% più leggero del DJI RS3 qui abbiamo il DJI RS3 giusto per farvi vedere un attimo velocemente la differenza fra i due a livello di dimensioni ve li metto qua vicino uno a fianco all'altro così potete avere un'idea più chiara di quelle che sono le dimensioni tuttavia in questo video non andremo a soffermarci tanto su quelle che sono le differenze principali fra i due più avanti vi porteremo un video confronto appunto fra loro due adesso invece ci concentriamo soltanto su di lui, sull'RS3 Mini inoltre appunto grazie al possibile di smontarlo in tre parti levando il piccolo treppiedi e la slitta qua sopra beh diventa molto più facile da tenere all'interno dei trolley nelle borse da viaggio e quindi per quando viaggiate con gli aerei e i treni per il resto qualitativamente non c'è nulla da dire per quanto riguarda i materiali DJI costruisce sempre prodotti di ottima qualità e sono affidabili e robusti e soprattutto lui è in grado di trasportare un peso fino a 2 kg così come abbiamo visto la scorsa volta su DJI RS3 Pro anche per quanto riguarda l'RS3 Mini andare a collegare la vostra fotocamera e quindi trovare il giusto equilibrio è veramente molto semplice e parlo soprattutto rispetto ai modelli passati altra qualità che è reddita dal fratello maggiore è la possibilità della autocalibrazione per quanto riguarda trovare il giusto equilibrio comunque sta sempre a voi bilanciare la camera sui tre assi ma una volta fatto vi basterà accendere lo stabilizzatore e potrete effettuare la calibrazione automatica ma adesso vediamo come ok adesso abbiamo fatto la prova con una Sony Alpha A7 IV che l'abbiamo messa sul DJI RS3 Mini una volta che avete trovato il giusto equilibrio tramite il tasto di accensione sulla destra basta premerlo per accendere lo stabilizzatore dopodiché ovviamente prima sbloccate tutti i motori non so se si vede da questo tasto in alto a sinistra si può avviare l'autocalibrazione start calibration e come vedete ora lo stabilizzatore effettuerà tutte le operazioni per poter calibrare perfettamente la camera ecco fatto quindi adesso siete pronti per usare il vostro DJI RS3 Mini l'algoritmo antivibrazioni terza generazione di DJI viene utilizzato anche in RS3 Mini che offre prestazioni eccellenti nelle varie modalità con questo stabilizzatore è molto facile ottenere video con una stabilizzazione di livello professionale indipendentemente dall'esperienza dell'utente inoltre DJI RS3 Mini supporta un'ampia varietà di obiettivi e combinazioni di fotocamere mirrorless tradizionali i motori sono davvero potenti vi consentono di effettuare anche piccole modifiche una volta che lo stabilizzatore è calibrato come per esempio poter modificare l'orientamento dello schermo oppure effettuare un piccolo zoom nonostante ciò come potete vedere l'RS3 Mini rimane sempre ben calibrato per garantire un comodo controllo anche il DJI RS3 Mini è dotato di uno schermo touchscreen a colori però da 1,4 pollici quindi leggermente più piccolo rispetto a quello dei fratelli maggiori questo schermo mi sento di ridire come nella recensione scorsa che è veramente un plus perché vi consente di tenere tutti i comandi principali a portata di mano rispetto a tanti altri stabilizzatori tradizionali dove non è presente un display del genere qua vi troverete molto bene per il resto tutti i comandi come potete vedere sono facilmente a portata di mano qui a destra come abbiamo visto prima c'è il tasto di accensione più una porta USB-C premendo il pulsante M si può selezionare fra le varie modalità come PF quindi Pan Follow, PTF, Pan & Tilt Follow e poi FPV gli utenti potranno anche personalizzare la velocità di inseguimento di queste varie modalità fra lento, medio, veloce oppure customizzato quindi potete settare direttamente voi il parametro di velocità che preferite tutto questo consente appunto di ottenere un'esperienza di ripresa più fluida e intuitiva inoltre è dotato dello stesso controllo dell'otturatore a Bluetooth che abbiamo visto sull'RS3 Pro quindi questa funzione supporta i modelli di fotocamera mirrorless tradizionali e consente all'RS3 Mini di connettersi automaticamente a una fotocamera dopo l'associazione iniziale ovviamente questo non è disponibile con tutte le fotocamere altrimenti vi basterà collegare la vostra fotocamera tramite il cavo USB-C qui puoi poter usufruire di questa funzione quando si utilizza una fotocamera Sony con un obiettivo digitale supportato è possibile controllare direttamente lo zoom ottico o digitale dell'obiettivo tramite la rotella anteriore eliminando la necessità di un cavo per controllare la fotocamera per esempio dall'app sul lato sinistro invece troviamo il solito gancio dove poter andare a collegare accessori esterni come per esempio il braccio per smartphone tuttavia qui non è presente lo sportellino dove al di sotto c'è il connettore per andare a collegare accessori elettronici diciamo così altra cosa a differenza rispetto ai fratelli maggiori lo sblocco dei motori qui è solo manuale quindi a differenza per esempio del RS3 Pro che quando accendete la camera i motori si sbloccano automaticamente qua vi dovete ricordare di farlo sempre voi manualmente potete collegare il vostro DJI RS3 Mini direttamente alla Pronin che ha una vasta gamma di funzioni intelligenti per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dalle proprie creazioni per esempio qua andando a Crea ci sono diversi impostazioni per esempio c'è il timelapse la traccia il joystick virtuale per poter comandare lo stabilizzatore o la modalità panorama e così via quindi vi dà molte possibilità creative che potete andare ad utilizzare direttamente dall'app e poi ci sono i classici setting diciamo così che già conosciamo per esempio il test per calibrare lo stabilizzatore o i parametri del motore e inoltre ci sono anche le impostazioni generali una grossa novità per quanto riguarda il DJI RS3 Mini è il fatto di poter effettuare delle riprese in verticale qual è la differenza diciamo sostanziale perché effettivamente non è una novità sugli stabilizzatori però rispetto per esempio ai fratelli maggiori l'RS3 Standard e l'RS3 Pro dovete in quel caso acquistare un accessorio a parte per poter far sì di poter mettere la fotocamera in verticale invece con l'RS3 Mini avete già tutto il necessario nella confezione e quindi appunto per questo è una grossa novità soprattutto su trovare questa possibilità su degli stabilizzatori così piccoli perché vi ricordiamo che lui è il diretto successore del Ronin RSC e infatti è dettagliato di questa piastra a sgancio rapido a doppio strato che vi consente di effettuare le riprese in verticale e quindi semplicemente rimuovendo questa parte e spostando la slitta da sotto al lato avete la possibilità di poter effettuare le riprese in verticale che è effettivamente lo standard ormai sempre più richiesto per essere competitivi nel mondo del video making per quanto riguarda i contenuti social per quanto riguarda invece la batteria e l'autonomia qui state tranquilli perché vi consente di effettuare circa 10 ore continue di lavoro quindi diciamo il lavoro di una giornata ve lo può portare tranquillamente a casa cosa molto utile lui si può ricaricare anche mentre lo utilizzate ed infine per poterlo ricaricare da 0 a 100 quindi diciamo per effettuare una ricarica completa vi servono circa 2 ore e mezzo a proposito se premete una volta il tasto di accensione o spegnimento lo stabilizzatore entrerà in modalità stand by quindi questo vi consente di conservare un bel po' di autonomia ovviamente ricordatevi di bloccare i motori in modo tale che potete camminare tranquillamente e poi quando vi riserve lo stabilizzatore per insomma fare il prossimo shooting basta sbloccare i motori, accenderlo e sarete già pronti per la scena ed eccoci giunti alle conclusioni per quanto riguarda il DJI RS3 Mini lui è arrivato sul mercato con un prezzo di 389€ come al solito vi ricordiamo qua in descrizione vi lasciamo il link utili per poterlo acquistare non mi dilungo molto sul prezzo perché è quello come diciamo sempre ormai visto il periodo storico che stiamo vivendo tutto sta subendo un aumento dei prezzi dalle auto a qualsiasi dispositivo tech lui è lo stabilizzatore perfetto per tutti coloro che sono o dei videomaker alle prime armi o semplicemente hanno bisogno di uno stabilizzatore sì affidabile, di qualità quindi con dei buoni motori con un'ottima qualità costruttiva con tante modalità un'app ben fatta che però appunto sia più portatile trasportabile quindi leggero e compatto per poterlo avere sempre nello zaino con voi altrimenti se siete dei professionisti avete bisogno magari anche di collegare per esempio il modulo Raveni o il LiDAR beh in quel caso dovete orientarvi sui fratelli maggiori RS3 e RS3 Pro ma giunti a questo punto adesso fateci sapere voi cosa ne pensate il nuovo DJI RS3 Mini e prossimamente sempre qui su TecnoAndroid arriverà un video comparazione fra lui e l'RS3 e se avete dubbi, domande, curiosità o perplessità come al solito fatecelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo con la prossima video recensione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti